E parliamo ancora di ambiente a Pomarance in provincia di Pisa, prosegue la battaglia di alcune associazioni contro il progetto esplorativo per una centrale geotermica nella riserva di Berignone. Una nuova larderello a pochi passi dal suggestivo masso delle fanciulle. Vendiamo con Andrea Marotta. Oltre 5.000 firme, tra carta e portale web change.org, la petizione lanciata da WWF Siena, Italia Nostra e altre associazioni ambientaliste ha raggiunto l'obiettivo. Il documento è stato consegnato nelle mani del presidente della regione Enrico Rossi. La campagna del comitato difensori della Toscana punta ora alla difesa di uno dei simboli della bellezza naturalistica in regione. Il masso delle fanciulle nella riserva naturale del Berignone lungo il corso del Cecina, un luogo suggestivo e metaturistica molto frequentata anche durante quest'estate. Qui tra i comuni di Pomarance, Volterra e Casole, una società privata, la Gesto SRL, portoghese con sede in Italia, ha chiesto la valutazione di impatto ambientale per verificare la presenza di un potenziale serbatoio geotermico a 11 chilometri dai soffioni di larderello. Le centrali geotermiche possono essere di diverso tipo, è vero, alta entalpia, media entalpia, bassa, per l'amor del cielo, però sempre hanno un impatto ambientale veramente imponente e importante. E sarebbe un autogol formidabile per l'Italia tutta. Alla richiesta della società di realizzare due pozzi esplorativi in questi luoghi, la regione ha risposto con una richiesta di ulteriore materiale entro fine settembre. Quindi l'ipotesi di una centrale geotermica passerà entro fine anno in giunta regionale. Per l'azienda che ha proposto l'operazione, il costo stimato è di oltre 6 milioni di euro, un investimento troppo neroso per non poggiare sulla certezza di una buona riuscita.